Sicuramente ragazzuoli forse sono un pochino malizioso anch'io, però davvero ero certo che sarebbe stato a questione di tempo prima di leggere questa notizia qui e lo ammetto, dopo la prima di campionato dove già ti ha salutato sicuramente Di Maria per un mesetto, Zaccaria non ha fatto sapere più un cazzo quindi lo do per buono però dove comunque già uno te lo è ribollato, che cos'è? Non vuoi arrivare praticamente a ridosso di Sampdoria Juventus con un altro infortunato? Beh a questo punto direi proprio di sì, a maggior ragione poi nel momento in cui ti è andata bene con Zaccaria perché notizia di oggi, notizia fresca fresca, Leonardo Bonucci affaticamento al flessore accusato dopo la partita contro il Sassuolo ed è a forte rischio per la partita contro la Sampdoria che andrà in scena lunedì e qui si potrebbero già aprire quantomeno due parentesi che più che altro sono le uniche che mi sento di aprire più che altro in questo momento perché la terza mi darebbe subito il permaban dalla piattaforma perché sarebbe un elenco non indifferente di bestemmia dato che questa situazione ha davvero sfiancato se veramente pensiamo il numero degli indisponibili, degli infortunati, di quelli che sono stati fermi dal primo giorno di preparazione ad oggi inizia già ad essere un elenco che qualche squadra se qualcosa va male ce l'ha nell'arco di una stagione e noi in un mese e mezzo tra le altre cose senza partite particolarmente impegnative dato che di fatto ne è giocata solo una siamo già arrivati ad un numero abbastanza importante ed ovviamente a primo impatto considerando che si tratta di un giocatore che già nella scorsa stagione è stato fermo tanto ma tanto tempo in particolar modo nella seconda parte di stagione è normale dire cazzo ma se effettivamente in molti dicevano che a prescindere dalla partenza o meno di De Ligt visto l'addio di Chiellini uno forte per fare il titolare toccava prenderlo è vero che ancora fino a prova contraria il mercato non è finito quindi puoi lasciare sempre un pochino di margine però è pressoché scontato che non arriverà nessuno anche perché appena preso Bremer si diceva beh si arriva un altro difensore arriva perché si è andato a vendere Rugani tra le altre cose era anche arrivata un'offerta da parte del Galatasaray dove anche lì avresti fatto plusvalenza totale e ti saresti liberato di più di 6 milioni lordi di stipendio per quello che è a tutti gli effetti il quarto difensore su quattro però veramente non che era palese però cazzo ti dovevi fidare proprio tanto per affidare la titolarità ad uno che nell'anno precedente era stato fermo per parecchio per infortunio in più andiamoci ad aggiungere anche un'etana grafica che indubbiamente è importante e il patatrac rischia di essere sempre dietro l'angolo in questo caso ci è arrivato dritto nel naso e lo ammetto non me l'aspettavo subito dopo la prima partita di campionato per quanto magari non sia più il bonucci affidabile degli anni d'oro ho detto cazzo almeno qualche partitina magari te la va a fare invece no subito dal giorno 2 dalla giornata 2 di campionato in questo caso c'è una grande possibilità di vedere gatti dal primo minuto al fianco di bremer e il problema tra virgolette però no sì io le toglierei anche le virgolette ad essere sincero rimane comunque quello dato che questa forse è la prova del 9 del fatto che bonucci non è più affidabile come anni fa che cos'è che fai vuoi rischiartela veramente di fare gatti bremer per la stragrande maggioranza per la stragrande maggioranza della stagione sì e se magari uno dei due si prende il raffreddore come unica riserva di fatto i rugani boh questo questo stop può essere visto anche come segnale nel senso che nel momento in cui mancano un paio di settimane alla fine del mercato ancora appunto di margine ce n'è magari no il campanello di allarme si è definitivamente acceso anche per quanto riguarda il difensore centrale mi aspetto qualcosa? sono sincero ragazzuoli no poi quantomeno io mi preparo a questo se dovesse effettivamente arrivare un centrale ok poi ovviamente dipende anche che centrale perché appunto dal mio punto di vista anche proprio con delict quindi proprio figuriamoci ne serviva uno da fare il titolare se ti arriva che ne so acerbi per carità hai uno slot in più eh però comunque sta a significare che fondamentalmente la coppia di difensori centrali titolari nella tua testa rimane comunque Bonucci Bremer e va bene e poi per l'ennesima volta nel momento in cui c'è un altro problema muscolare viene per forza no? da porsi un dubbio riguardo la preparazione riguardo quel caso che combinano in allenamento boh perché va bene eh si continua a dire beh rispetto agli altri anni gli infortuni muscolari per carità io posso dare anche ragione perché se alla fine ogni stop arriva per un motivo diverso fino a prova contraria è vero non sono magari problemi muscolari sono altri problemi solo che io da tifoso onestamente non è che mi vada proprio a genio più che altro che se comunque tu vai a vedere l'elenco degli indisponibili tu puoi tirar fuori tutte le scuse del mondo ma nel momento in cui ne vedi 6, 7, 8, 9, 10 indisponibili un pochino ti piglia male e penso anche sia legittimo perché tanto i problemi che tocchi poi sono sempre quelli lì qui non ti puoi permettere di cannare in particolar modo le primissime giornate perché se canni quelle rischi di fare non dico una stagione a vuoto perché il campionato è lungo e sarà dannatamente strano per tutti quanti a causa mondiale sarà un pochino come in Argentina no? che c'è l'apertura e la clausura saranno quasi due mini campionati staccati quello il girone d'andata e quello di ritorno però te ti devi far trovare pronto sul pezzo dal minuto 1 e comunque sai se ti presenti di partita in partita quando tra le altre cose a partire da Juve-Rome iniziare a giocare ogni tre giorni con 6, 7, 8 indisponibili a botta la situazione inizia a farsi quantomeno più complicata non implica il fatto che non puoi comunque vincerle tutte quante è un augurio che ovviamente da tifoso mi faccio però più ne hai a disposizione e soprattutto più titolari hai a disposizione dato che in questo momento già se andiamo a vedere ne mancano 4-5 di titolari tra Chiesa, tra Pogba, Di Maria, Bonucci adesso insomma la situazione inizia a farsi quantomeno particolare via diciamo così e boh anche in questo caso vedremo vedremo ragazzuoli qui veramente ok che già sin da subito dopo la partita contro Sassuola era stata una mezza strage con la notizia di Di Maria solo che pensavi di averla fatta franca quantomeno no prima di vedere quella dopo invece se caz sarebbe stato troppo facile in più settimana di nulla condito con niente per quanto riguardi il calciomercato dato che nessuno è partito e chi poteva partire ha fatto saltare il trasferimento e chi poteva arrivare ancora non è venuto e forse è saltato comunque il trasferimento quindi proprio è stata una bella settimana è stata una bella settimana ma si sente, si percepisce il fatto che sia tornato il calcio giocato proprio guarda non c'era il minimo dubbio per il resto nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine Forza Juve 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 Forza Juve